Columbia Picture presenta L'avevano predetto i Matsumaya Sacco e Deales hanno confermato Ma nemmeno la mente più malata avrebbe immaginato Che potesse rapri davvero Più inquietante della casa di Psycho Più paurosa di quella di Antidale Nel 2012 nessuna fine del mondo Nel 2012 nessuna resurrezione dei morti Nel 2012 preparatemi a parcheggiare i nostri anziani Sullo ricovero Chiamo Bà Togliamo Pè Nolli 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 no Pè No Nolli 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 noах Grazie.